Il presidente Mazzèo con la nuova norma E effettiva parità tra uomini e donne Custodio della montagna Presentata la proposta di legge Del Partito Democratico Per incentivare le attività economiche e sociali Nei territori montani Un passo ulteriore Verso le pari opportunità Fino ad oggi c'era solo parità Nelle candidature Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha commentato L'approvazione della legge regionale Su nuove disposizioni degli incarichi Avvenuta nel corso della seduta Di mercoledì 28 luglio Con tale norma infatti Tutti gli incarichi regionali Dovranno assicurare la parità effettiva Tra uomini e donne Era un impegno che ho preso Non appena eletto presidente del Consiglio regionale Lo dico ai cittadini che ci seguono Oggi c'era una norma Quella sulle nomine Che diceva che si dovevano presentare Due nomi Un nome di uomo E un nome di donna Per qualunque nomina Ma poi alla fine Il Consiglio regionale Poteva scegliere Di nominare persone Tutte dello stesso sesso Con questa modifica Che ho condiviso Anche con l'emendamento Che ho presentato Con la commissione Pari opportunità Io dico che ci deve essere Parità di genere Non parità di presentazione Delle domande Ma parità di genere Questo vuol dire Che se è un numero pari Di nomine Allora saranno 50 e 50 Se invece è un numero dispari Ci sarà la differenza Solo di un genere Sono tre Due uomini e una donna O due donne e un uomo Alla fine dell'anno Faremo una valutazione E nel caso in cui Non ci sia ancora Parità complessiva Lo faremo Nell'anno successivo Questa secondo me È una scelta importante Che va nella direzione giusta Noi non possiamo guardare il mondo Solo con gli occhi Di un genere Credo che serva La presenza di tutti E buona politica È davvero quella di dare risposta In questa direzione Si è approvata una legge Che va in una duplice direzione Da una parte La semplificazione Nelle designazioni Nelle nomine Degli organi Designati dal Consiglio regionale E dall'altra Il rispetto Della parità di genere Mi piace considerare Come si sia voluto dare Osequio Al principio Della parità di genere Da un punto di vista Sostanziale E non formale Da una parte infatti È stato eliminato L'obbligo Quando si propongono Delle candidature Di indicare Necessariamente Sempre La candidatura maschile E quella femminile Perché questo Non era garanzia Del fatto Che poi negli organi Venissero ad essere Rappresentati Entrambi i generi Si è invece Imposto Che negli organi Che sono eletti E designati Dal Consiglio regionale Ci sia una rappresentazione Paritaria Degli uomini E delle donne E che qualora Ci possa essere Una composizione Dispari Che un genere Non possa essere Rappresentato Meno di un'unità Rispetto all'altro genere Quindi un principio Di rappresentanza Dei generi Sostanziale Che si va a sovrapporre E va a sostituire Quello meramente formale Che aveva caratterizzato L'ordinamento regionale Fino a questo momento La legge raccoglie Le mie proposte Che sono forti Perché finalmente La parità di genere Non diventa Soltanto un principio Né uno slogan Diventa fattiva Serve attuarla Concretamente Un impegno concreto Del Consiglio regionale Negli incarichi Nelle nomine Sia tecniche Che politiche In tutti i consigli Nelle consulenze Una presenza Paritetica Di donne E di uomini Che consente Di far emergere Merito e qualità Ma soprattutto Un coinvolgimento Attivo e fattivo Della Commissione Pari opportunità Rispetto a un processo Di informazione Di comunicazione E di divulgazione Di quello che diventa Fondamentalmente Un principio cardine Che la regione Si impegna In prima persona Ad attuare Ogni anno Nella ripartizione Degli incarichi Che vengono assegnati Anche tenendo conto Non soltanto Elementi politici Ma soprattutto Elementi qualitativi E tecnici Ci siamo astenuti Sulla proposta Di modifica Della legge Perché Per un semplice motivo Che continuo Ad essere convinto Che non servano Le quote Per garantire La rappresentanza Femminile Ma servono persone Preparate Capaci Fino ad oggi Non c'era evidentemente Una legge Che imponeva Una parità Di genere Fratelli d'Italia Ha fatto quattro nomine In questa legislatura Due sono uomini E due sono donne Non le abbiamo scelte Per quote Ma abbiamo scelte Le persone più capaci E quando scegliere Le persone più capaci Casualmente Viene fuori Che le persone capaci Sono sia uomini Che donne Qualcuno continua A pensare Che per far sì Che le donne Partecipino Alla vita politica Servano le quote Fatemelo dire Da rappresentante Dell'unico partito In Italia Che è guidato Da una donna Mi sento di dire Che evidentemente Se non è capace Riesce ad affermarsi Al di là Dell'essere uomo o donna Ci siamo assenuti Su questa proposta Di legge Per un semplice motivo Non perché non condividiamo Naturalmente Gli obiettivi Che sono Naturalmente Perseguiti Con questa proposta Ma solo perché Veniamo da una settimana In cui i tempi ristretti Non ci hanno consentito Di approfondire Un argomento importante Anche alla luce Insomma Di quelli che sono Gli eventi E di quella che è La sensibilità generale Su questo tema Avremmo voluto Un maggiore approfondimento E quindi abbiamo ritenuto Che fosse Diciamo così Lasciato aperto Ancora Uno spazio di trattativa Con un voto di astensione Che di fatto Non pregiudica però Un nostro contributo Eventualmente a settembre Migliorativo della legge Dove Diciamo Ci sono ancora degli aspetti Che potrebbero essere Più approfonditi E maggiormente limati La questione di genere Giustamente si pone Anche all'interno Del Consiglio regionale Per quanto riguarda Le nomine E altri aspetti Credo che fondamentalmente Sia necessario Un salto culturale E mettere Nella nostra società Le donne Nella condizione Di poter competere E essere all'interno Del mercato Del lavoro Ma anche banalmente Di quello che riguarda Le attività del Consiglio regionale Le nomine appunto In condizioni di parità Questo è il salto culturale Che ci aspetta Deve essere aiutato Anche con dei passaggi Legislativi Ma deve essere appunto Un aiuto Che in questo momento Serve a Soltanto compensare Delle carenze Ma lo vediamo Positivamente In ogni caso Contrastare lo spopolamento E incentivare Le attività economiche E sociali Nei territori montani Come quello casentinese Questo l'obiettivo Della proposta di legge Presentata nel corso Di una conferenza stampa Dal capogruppo del PD In Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli E dal consigliere PD Mario Puppa La proposta di legge Prevede infatti Misure specifiche In favore di soggetti Che intendono avviare Un'attività produttiva O riorganizzare Un'attività già esistente Nei territori Dei comuni montani È un'iniziativa Molto concreta Per aiutare Quelle piccole attività Che possono svolgersi In montagna Per contrastare Appunto Lo spopolamento E anzi Semmai Prevedere La possibilità Di ritornare A vivere E a lavorare In montagna Noi prevediamo Di dare Dei contributi Per 30.000 euro In 5 anni A chi Aprirà Una nuova attività A di sopra Dei 600 metri 15.000 euro In 5 anni Per chi Invece Già svolge Un'attività Intende Riqualificarla Oppure ampliarla In più La possibilità Di stabilire Un patto Di comunità Così lo abbiamo Definito Attraverso Una convenzione Che impegna I titolari Di queste attività A poter Svolgere Delle funzioni Di carattere sociale O di carattere Ambientale Per quanto riguarda La manutenzione E la tutela Del territorio Ci sembra Molto importante Questa proposta Di legge Perché Avere Delle attività Per esempio La piccola Bottega In montagna Significa Avere Un punto Di riferimento Non soltanto Di carattere Commerciale Ma anche Di carattere Sociale Un punto Di riferimento Che significa Mantenere La vita In questi Territori Che spesso Sono Territori Molto Poco Popolati E poi La possibilità Di avere Un riferimento Di carattere Sociale Per la popolazione Che è spesso Una popolazione Anziana E per un territorio Che ha bisogno Di essere Tutelato Manutenuto E salvaguardato Noi pensiamo Che questa Opportunità Messa assieme Ad altre Iniziative Che la regione Oramai Sta prendendo A favore Dei piccoli Comuni A favore Delle aree Interne Possa Contribuire A invertire Questa tendenza Allo spopolamento E invece Far riscoprire Queste aree Che sono Fra l'altro Più del 60% Del territorio Della Toscana Dove comunque Vivono Più di 1 milione 200 mila Persone Che hanno Diritto Di poter Avere Le opportunità Che invece Si hanno Anche In altre Situazioni Assolutamente È un passo Concreto Un nuovo Passo Concreto Che cerca Di arginare Diciamo Uno dei Drammi Della Montagna Toscana Che è Lo spopolamento Lo fa attraverso L'idea Di Far rinascere Delle imprese O mantenerle Sul territorio In modo Da dare Occupazione Lo fa Credo Anche In maniera Innovativa Ma soprattutto Lo fa Con concretezza Perché mette A disposizione Delle risorse Delle risorse Che servono Diciamo In maniera Perequativa Rispetto a Certi costi Che la montagna Pretende E lo fa Pensando Soprattutto Che certi Tipi di Attività In quei luoghi Sono delle Luci Che non Vanno Spente Le attività Economiche Nella montagna Hanno una Funzione di Servizio Più che Una funzione Economica Quindi è Compito Della politica Compito Dell'istituzione In questo Modo Aiutare In maniera Concreta Al mantenimento Voglio dire Su quei territori Delle persone Perché presidiare Il territorio Vuol dire Prevenire Disastri ambientali Vuol dire Preservare Il paesaggio Della Toscana Che ha un valore Economico Dal punto di vista Turistico E molto elevato E quindi Noi su questo Abbiamo inteso Insieme a Ceccarelli Di fare un passo Concreto E importante Con questa proposta Di legge Grazie a tutti